Musica E' appena iniziato il match unica mattina da ragazzi di Genesis e ragazzi dei PSG Vediamo questo match, buon calcio a tutti Librano palla in mezzo, Sepe a E c'è il gol di Sepe che porta in vantaggi i PSG Bravo Sepe, grande, ottimo Palla in mezzo Gargiulo, il tocco sotto Il destro ad anticipare sia difesa che portiere E c'è il gol del pareggio da parte dei Genesis 1 a 1 Mantenuto il primato per 5 giornate Tu l'hai fatto Sepe in area di rigore con la putta Gol da Futsal per lui, nuovo vantaggio, PSG 2 a 1 E chi sa meglio lui Attenzione Sepe, Sepe carica il destro Ma ma che gol Di Sepe M Una rete clamorosa 3 a 1 PSG Che gol, nonostante l'inferiorità numerica E' 3 a 1 Abbalido Reagisce La compagine dei Genesis 3 a 2 Finisce qui il primo tempo 3 a 2 E' iniziato il secondo tempo Tra i ragazzi dei Genesis Se il Pese c'è Punteggio di 3 a 2 Per il Pese c'è Decide Lo scatenato Carmine Raimo Quest'oggi anche in mezzo al campo Buon calcio a tutti Palla messa in mezzo Loro parlano E gli avversari segnano Ancora Sepe 4 a 2 Attenzione Gargiulo A tu per tu Accorcia ancora le distanze Gargiulo 4 a 3 Attenzione il destro Ancora Sepe Tutto pur di non passarla a Raimo Sepe va a segnare il gol del 5-3 Ambienti Ancora Sepe La palla arretrata Per compagazione C'è Sciaraffa Che prova ad andare Attenzione Sciaraffa Librano Non riesce ad evitare il gol C'è il gol di Siria con Sciaraffa Che accorcia le distanze 5 a 4 Coppola Sepe Librano Prova il dribbling Se ne va Librano Ma che gol Ce la dedica Guardacino Che gol Che gol Guardacino C'è il gol di Librano Che va a segnare il gol Nel 6-4 Oh Guardacino Guardacino Balido Palla in mezzo C'è il gol di Balido 6-5 Attenzione Palla in verticale Librano 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 La chiude Luis Librano La chiude lui 7 a 5 Balido Il gol di Balido 7 a 6 Sono ancora vivi Genesis E finisce qui con la vittoria del PSG 7 a 6 Andiamo dal migliore in campo Siamo qui con Librano Il migliore in campo di questo match Che i PSG hanno vinto 7 a 6 Un po' soffrendo Luis Ma alla fine Tre punti importanti portati a casa Che ne pensi? Sì Bella partita All'ultima ci siamo fatti rimontare Uno dei polli Abbiamo sbagliato tutto Però per fortuna Abbiamo tenuto E noi Siamo riusciti a fare Senti Tre punti importanti Grande prestazione Con Dita Con un grandissimo gol Da parte tua Questi PSG Conquistano un'altra vittoria Quale pensi possa essere L'obiettivo per questo team? Per loro sono contento Però io penso Bravissimo Bravissimo In bocca al lupo Allora Ciao Luis